Quanti errori sei disposto a fare affinché la tua conversazione in inglese non diventi imbarazzante? Allora alcuni dicono, beh, un po' di errori vanno anche bene, non c'è un problema serio. Alcuni dicono, beh, se si fanno tanti errori potrebbe essere un problema. Altri dicono, no, vabbè, alcuni errori sono accettabili, altri sono inaccettabili. Tutte queste opinioni sono valide, ma il problema è un problema pratico. Cioè, tu da oggi come fai a migliorare il tuo approccio con gli errori? Come fai a iniziare da oggi ad evitare di fare errori imbarazzanti? Non è possibile se speri di farne meno, anche perché puoi correggere quanti. Un errore a settimana? Un errore al giorno? Non di più. Se ne fai 10.000, diciamo che prima che risulterà una conversazione tranquilla per te, e l'utilizzo dell'inglese risulterà tranquillo, dovrai aspettare veramente tanto tempo. Per questo oggi ho deciso di fare questo breve video e spiegarti la tecnica che è antica 5.000 anni, ma ho mentito, è antica un miliardo di anni perché esiste da quando esiste l'essere umano, o addirittura da quando esiste la natura. Bene, come ti sarai accorto in giro, sia nella natura che nell'essere umano, fin da piccoli facciamo tantissimi errori. Tant'è che da bambini addirittura gli errori vengono premiati. Un bambino che prova a camminare, a alzarsi e cade, viene applaudito dai genitori e da tutti gli amichetti e da tutti i genitori degli amichetti. E allora perché oggi pensiamo che fare quegli errori, fare quegli inciampi, quelle cadute, sia una cosa imbarazzante? Beh, io non lo so, nel senso che la cultura italiana è veramente particolare, forse perché è la cultura della bellezza, quindi ciò che è bello cadere diventa meno bello. O forse è solo una questione magari di mentalità, ma non importa. Quello che mi importa a me oggi è darti la soluzione. La soluzione è quella di ricordare che il bambino, quando cade, sta facendo un progresso verso lo stare in piedi. Non è un errore che impedisce lo stare in piedi, ma tramite quella caduta memorizzerà degli schemi meccanici e motori, affinché quando starà in piedi, non starà solo in piedi in equilibrio, ma potrà anche attenuare le cadute successive. Quindi gli errori non sono una cosa da accettare, mannaggia, ma gli errori sono propedeutici, sono fondamentali per costruire il tuo inglese in modo solido, in modo che anche quando il tuo livello sarà più alto di quello di adesso, non abbia più tu la paura di cadere. O se tu cadrai perché non capirai un'intera conversazione, avrai quegli schemi motori, in questo caso linguistici, e quella tranquillità e serenità di rialzarti in piedi senza nessun problema. E ti assicuro che per quanto riguarda i paesi anglofoni, tutti quelli che parlano inglese, l'errore non è visto come in Italia, nessuno ti riderà mai in faccia, l'importante è che tu stai sereno, riesci a comunicare, ti farai una risata, se la faranno pure gli altri, e viva la vita! See you on the other side!